RUTH CAPITOLO PRIMO Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Bethlehem di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figlioli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi. I suoi due figlioli, Malom e Kilion, erano i fratei di Bethlehem di Giuda. Giunti nelle campagne di Moab, vi fissarono la loro dimora. Elimelech, marito di Naomi, morì, ed ella rimase coi suoi due figlioli. Questi sposarono delle maobite, delle quali una si chiamava Orpa, e l'altra Ruth. E dimorarono quivi per circa dieci anni. Poi Malom e Kilion morirono anch'essi tutte e due, e la donna restò priva dei suoi due figlioli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata, e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore, «Andate, tornatevene ciascuna a casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito.» Essa le baciò, e quelle si misero a piangere ad alta voce, e le dissero, «No, noi torneremo con te al tuo popolo.» E Naomi rispose, «Ritornatevene, figliuole mie, perché verreste con me? Ho io ancora dei figliuoli in seno che possono diventare vostri mariti? Ritornatevene, figliuole mie, andate! Io sono troppa vecchia per maritarmi, anche se dicessi, ne ho speranza, e andassi a marito stasera e partorissi dei figliuoli. «Aspettereste voi finché fossero grandi? Vi estereste voi per questo dal maritarvi? No, figliuole mie, l'afflizione mia è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me.» Allora esse alzarono la voce e piansero di nuova, e Orpah baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth, «Ecco, la tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Ritornatene anche tu, come la tua cognata.» Ma Ruth rispose, «Non insistere perché io ti lasci, e me ne ritorni lungi da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu, morrò anch'io, e qui vi sarò sepolta. L'Eterno mi tratti col massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te.» Quando Naomi la vide fermamente decisa di andare con lei, non gliene parlo più. Così fecero il viaggio assieme fino a loro arrivo a Bethlehem, e quando giunsero a Bethlehem, tutta la città fu sottosopra a motivo di loro. Le donne dicevano, «È proprio Naomi?» Ed ella rispondeva, «Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Eterno mi ha ricolmato d'amarezza. Io partì nell'abbondanza, e l'Eterno mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando l'Eterno ha testato contro di me, e l'Onipotente mi ha resa infelice?» Così Naomi se ne tornò con Ruth la maobita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab, e se giunsero a Bethlehem, quando si cominciava a mietere l'orzo. Ruth capitolo secondo Or Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente, ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la maobita disse a Naomi, «Lasce mandare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia». Ed ella rispose, «Va, figliuola mia». Ruth andò dunque e si misi a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso le avvenne di trovarsi nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Bethlehem e disse ai mietitori, «L'Eterno sia con voi». E quegli gli risposero, «L'Eterno ti benedica». Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori, «Chi è questa fanciulla?» Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose, «È una fanciulla maobita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab». Ella ci ha detto, «Vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra le mannelle dietro ai mietitori». E da stamattina che è venuta è rimasta infino ad ora, e si è ritirato momento solo per riposarsi. Allora Boaz disse a Ruth, «Ascolta, figliuola mia, non andare a spigolare in un altro campo, e non t'allontanare di qui, ma rimani con le mie serve, e guarda qual è il campo che si miete, e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai ai vasi a bere l'acqua che i servi avranno attinta». Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse, «Come mai ho trovata grazia agli occhi tuoi che tu faccia caso di me, che sono una straniera?» Boaz le rispose, «Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per la tua socera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio, per venire in un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti rimuneri di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno lì Dio d'Israele, sotto le ali del quale sei venuta a rifugiarti». Ella gli disse, «Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu m'hai consolata, e hai parlato al cuore della tua serva, quantunque io non sia neppure come una delle tue serve». Poi, al momento del pasto, Boaz le disse, «Vieni qua, mangia del pane, e intingi il tuo boccone nell'aceto». Ed ella si posse a sedere accanto ai miei ditori. Boaz le porse del grano arrostito, ed ella ne mangiò, si satollò, e ne mise a parte gli avanzi. Poi si levò per tornare a spigolare, e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi. «Lasciatela spigolare anche fra le mannelle, e non le fate affronto. E cercate anche per lei delle spighe, e dai manipoli, e lasciatele lì perché essa le raccatti, e non la sgridate». Così ella spigolò nel campo fino alla sera, batte quello che aveva raccolto, e ne ebbe circa un'efa d'orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città, e la sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato, e Ruth trasse fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diete. La suocera le chiese, «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che t'ha fatto così buona accoglienza!» E Ruth disse a sua suocera, presso di cui aveva lavorato, e aggiunse, «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». E Naomi disse alla sua nuora, «Sia egli benedetto dall'Eterno, poiché non ha rinunziato a mostrare vivi la bontà che ebbe verso i morti». E aggiunse, «Quest'uomo è il nostro parente stretto, è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto». E Ruth, la maobita, ma ha anche detto, «Rimani con mie servi finché abbia finita tutta la mia messe». E Naomi disse a Ruth, sua nuora, «Ebbene, figliuola mia, che tu vada con le sue serve, e non ti si trovi un altro campo». Ella rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare, sino alla fine della messe degli orsi e del frumento, e stava di casa con la sua suocera. Ruth, capitolo terzo Naomi, sua suocera, le disse, «Figliuola mia, io vorrei assicurare il tuo riposo, perché tu fossi felice. Ora Boaz con le serve del quale tu sei stata, non egli nostro parente? Ecco, stasera deve ventolar l'orzo nell'aia. Levati dunque, ungiti, vestiti e scendi all'aia, ma non ti fa riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi, e mettiti lì a giacere, ed egli ti dirà quello che tu debba fare». Ruth le rispose, «Farò quello che dici». E scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e beve, e col cuore allegro se ne andò a dormire presso al monte delle mannelle. Allora ella venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi, e si misce a giacere. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò, di soprassalto si voltò, ed ecco che una donna gli giaceva ai piedi. «Chi sei tu?» le disse. Ed ella rispose, «Sono Ruth, tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Ed egli a lei, «Sì, benedetta dall'eterno figliola mia, la tua bontà da adesso supera quella di prima, giacché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. Ora dunque, non temere figliola mia, io farò per te tutto quello che dici, poiché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. «Or è vero che io ho il diritto di riscatto, ma venne un altro che te è parente più prossimo di me. Passa qui la notte, e domattina se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia pure. Ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio, com'è vero che l'Eterno vive». Sta coricata fino al mattino. Ed ella rimase coricata ai piedi fino alla mattina. Poi si alzò, prima che i due si potessero riconoscere l'un l'altro, giacché Boas aveva detto che nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aia. Poi aggiunse, «Porta qua il mantello che hai addosso, e tienilo con ambo le mani». Ella lo tenne su, ed egli vi misurò dentro sei misure d'orso, e glielo mise in spalla. Poi se ne venne in città. Ruth tornò dalla sua suocera, che le disse, «Sei tu figliola mia? Ed ella le raccontò tutto quanto quell'uomo aveva fatto per lei, e aggiunse, ma anche dato queste sei misure d'orso, perché mi ha detto, non devi tornare dalla tua suocera con le mani vuote». E Naomi disse, «Rimani qui, figliola mia, finché tu vega come la cosa riuscirà, poiché quest'uomo non si darà poso, finché non abbia oggi stesso terminato quest'affare». Ruth Capitolo Or Boas salì alla porta della città, e qui vi si pose a sedere. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto, e del quale Boas aveva parlato. E Boas gli disse, «O tu tal dei tali, vieni un po' qua, e mettiti qui a sedere». Quello si avvicinò e si mise a sedere. Boas allora prese dieci uomini fra gli anziani della città e disse loro, «Sedete qui». E quelli si misero a sedere. Poi Boas disse a colui che aveva il diritto di riscatto, «Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva ad Elimelech, nostro fratello. Ho creduto bene informartene, e dirti, fanne acquisto in presenza degli abitanti del luogo e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo. Ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, ondio lo sappia, perché non c'è nessuno fuori di te che abbia il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io». Quelli rispose, «Farò valere il mio diritto». Allora Boas disse, «Il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Rut, la maobita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità». Colui che aveva il diritto di riscatto rispose, «Io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia propria eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, giacché io non posso valermene». Or vera in Israele questa antica usanza per render valido un contratto di riscatto e di cessione di proprietà. Uno si cavava la scarpa e la dava all'altro. Era il modo di attestazione in Israele. Così colui che aveva il diritto di riscatto disse a Boas, «Fa l'acquisto per conto tuo», e si cavò la scarpa. Allora Boas disse agli anziani e a tutto il popolo, «Voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva ad Elimelech, a Kilion e a Maolom, e ho pure acquistato Rut la Maobita, miglia di Maolom, poiché sia mia moglie affinché di far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, onde il nome del defunto non si estingua fra i suoi fratelli, ed era alla porta della sua città. E tutto il popolo che si trovava alla porta della città, e gli anziani risposero, «Noi siamo testimoni. L'Eterno faccia che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata, e fatti un nome in Bethlehem. Possa la progenie che l'Eterno ti darà da questa giovine, render la tua casa simile alla casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda. Così Boaz prese Rut che divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e l'Eterno le die grazie di concepire, ed ella partorì un figliuolo. E le donne dicevano a Naomi, «Benedetto l'Eterno, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse un continuatore della tua famiglia. Il nome di lui sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua, e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito la tua nora che t'ama, e che vale per te più di sette figliuoli». E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno, e gli fece da nutrice. Le vicine gli dettero il nome, e dicevano, «È nato un figliuolo a Naomi», e lo chiamarono Obed. Egli fu padre di Isai, padre di Davide. Ecco la posterità di Perez. Perez generò Estrom, Estrom generò Ram, Ram generò Amminadab. Amminadab generò Nashlom, Nashlom generò Salomon, Salomon generò Boaz, Boaz generò Obed. Obed generò Isai, e Isai generò Davide. Stefano Salomon generò San喜 Grazie a tutti